ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale come vedete oggi torniamo su e football 2023 per analizzare l'aggiornamento di oggi un aggiornamento che porta un nuovo pack del napoli con giocatori molto forti li andremo a vedere e andremo anche a girare prima di fare tutto ciò intanto ci tengo ad augurarvi un buon inizio settimana a tutti un buon lunedì buon lavoro e detto ciò quando entra in game c'è una notifica che è questa informazione sull'aggiornamento versione 2.4.2 di e football 2023 pubblicheremo la versione 2.4.2 di e football 2023 il 2303 2023 scusate il giro di parole ma è così per ringraziare tutti del loro straordinario supporto gli utenti che staranno l'aggiornamento appunto quello che stiamo analizzando entro lunedì 59 del 27 tra 2023 riusciranno un accordo al buio probabilmente questo accordo al buio è legato al alle epiche che verranno introdotte poi da giovedì in avanti una volta è stato l'aggiornamento accede al gioco app la posto di arrivo eccetera 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 potrei usare l'accordo al buio dopo il lancio dell'aggiornamento fino al 52 del 33 2023 buon divertimento con il football allora piccola parentesi su questa notifica poi ci fiondiamo sugli eventi che hanno messo oggi e sui giocatori del napoli ovviamente allora ragazzi questa è una versione che non era stata programmata è stata tirata fuori all'improvviso questa notifica già c'è arrivata a voce ovviamente e questa la conferma che questo giovedì arriverà a questo tipo di versione per quanto mi riguarda non ci sto mettendo l'anima però spero vivamente che possano sistemare tutti questi problemi che da quando l'introdotto la 2.4 punto zero in avanti sono arrivati perché gameplay si è migliorato ma è durato veramente uno schioppo di dita e poi soprattutto negli ultimi giorni della fase è diventato un qualcosa di allucinante perché il matchmaking è diventato la roba che non finisce mai perché per trovare avversare tante volte ci vuole veramente tanta pazienza e poi soprattutto gli abbinamenti che sono una cosa allucinante anche lì perché davvero trovare sempre gente che è lontana di luce dal 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 da te fa sì che comunque tante volte si lagga e si possa anche pensare magari involontariamente che quell'avversario sia un cheater quando in realtà magari non è manco colpa dell'avversario quindi bisogna sistemare tutte queste pecche che si sono formate negli ultimi nelle ultime settimane oltre quello ovviamente io penso che se non vincimo alla lista dare una regolata definitiva a questo gameplay tutte queste modifiche sembrano delle cagate ma non lo sono quindi io spero vivamente che questo aggiornamento sia definitivo se dovessero andare a toccare questo tipo di cose e penso che lo faranno perché comunque è un aggiornamento abbastanza improvvisato ripeto quindi non è stato programmato devono cercare di sistemare qualcosa per quanto riguarda gli eventi è vero il gioco è un po scarno con la diventi però diciamo che secondo me la base di tutto questo il nervosismo di questo ultimo periodo se derivante soltanto dal gameplay al momento poi ripeto sull'accordo con voi che vanno aggiunti eventi competizioni che possano essere giocate con premi importanti però abbiamo una roadmap spero che loro possano perlomeno rimanere fedeli a un programma che sia a portare il gioco a migliorare sotto questo punto di vista e soprattutto a dare una base definitiva al gioco va bene perché poi aggiornamento su aggiornamento questo gioco tenderà sempre però a provare a provare a migliorarsi a provare però ci trova meno si aggiorna quindi penso che per settembre potremo avere un altro tipo di gioco potremmo avere un altro tipo di gioco rispetto a quello che abbiamo oggi che al momento si concentra prevalentemente sulle divisioni quindi sotto un certo punto di vista io spero che questo aggiornamento qua possa essere già una base definitiva per quanto riguarda le grandi pack che vive cioè gameplay e matchmaking questo è importante dopodiché gli altri aggiornamenti che arriveranno che tra l'altro uno arriverà già ad aprile quindi abbiamo già una data anche per quel per quel aggiornamento io non me lo ricordo penso ai 14 non mi ricordo però intanto arriverà quindi questo aggiornamento è a metà tra la 2.4 punto zero e la prossima che arriverà che non so che versione sia detto ciò incrociamo le dita speriamo bene chiudo sto discorso sul video lungo troppo e fiondiamoci sui giocatori del napoli e quasi qua ragazzi ovviamente ovviamente i giocatori del napoli che spiccavo tantissimo sono kvaraskelia o simen anghissa ma nel pack vi faccio vedere ci sono un po tutti ci sono un po tutti sono simen losano meret di lorenzo kvaraskelia appunto anghissa kim e lobotka non sto manco a dirvi chi vorrei kvaraskelia prima di tutto e poi kim kim perché comunque non ho una versione a 5 stelle di kim è comunque sviluppo io ne ho bisogno per la mia per la mia formazione oltre quello di di altri si fosse magari anche robot che potrebbe servirmi però sinceramente quelli che vorrei sono kvaraskelia kim quello che arriva in più è tanto di guadagnato quindi io partirei spostando anche la telecamera intanto a analizzare i giocatori ecco partiamo subito da osi man manco a dirlo comunque una versione recente quella show time ma dove avendoci fatto un piccolo paragone ovviamente ragazzi questo è più debole però comunque è interessante ventuno livelli di crescita opportunista e valutazione c ma dopo quello che hanno fatto anche ieri contro il torino immagino torna forma fisica costante proprio perché ormai questo giocatore ma così come tutti i giocatori del napoli questo momento qua sono quasi infermabili quindi mi fa strano comunque vederlo con la condizione fisica c quando dovrebbe essere almeno con condizione fisica b sempre su sempre detto ciò è un opportunista fatto e finito non è un animale palla al piede però è molto forte sottoporta immagino perché comunque io gli andrei ovviamente ad alzare finalizzazione potenza colpo di testa qualcosina ovviamente sul dribbling possesso stretto e contro la palla gli io darei però comunque sappiamo già come bisogna buildare victor siman per farlo rendere al massimo per quanto riguarda anche la sua passiva serpentina in corso come vedete può fare soltanto la punta centrale e ve lo consiglio caldamenti utilizzano solo come punta centrale perché come secondo appunto quant'altro renderebbe veramente zero abita il giocatore colpo di testa progetto minato fino a direzione probati cattivo di prima astuzia tornato dominio palle alte forma fisica normale risente delle delle forme fisiche settimanali anche se ripeto come dicevo prima secondo me non c'è bisogno di essere preoccupati perché se i giocatori dovrebbero essere almeno sempre con condizione fisica b passiamo al giocatore forse più interessante del pacchetto che è kvaraskelia taglio al centro 29 livelli di crescita tantissimi punti per lui è un giocatore ovviamente purtroppo sempre vincolato dalle posizioni in campo io lo farei una versione come seconda punta perché secondo me tanti giocatori lo userebbero tempo zero è troppo forte questa versione secondo me la migliore che ci possa essere in game al momento ripeto 29 livelli di crescita sono veramente tanti taglio al centro quindi lui da esterno tenderà sempre a fare quel movimento ad andare ad attaccare lo spazio nel rigore quindi la passiva dice questo è un giocatore molto forte per me merita veramente una menzione particolare è veramente interessante c'è poco da dire vediamo gli stili di gioco furambolo serpentino in corsa inserimento abilità del giocatore doppio tocco elastico veronica taglia da spalle giro controllo di suola giro da istante tiro a scendere fino alla direzione acrobatica ramone astuzia forma fisica incorrambili calcologi non so cosa significhi visto che si vedono tutti che perdono i punti quando la freccia verso il basso Lozano alla prolifica 25 livelli di crescita anche lui è vincuato dai delle posizioni in campo esterno sinistro alto esterno destro alto ragazzi lui è il tipico giocatore da fascia e alla prolifica però purtroppo è in esterno quindi ci ci potete fare veramente poco se giocate con un 4-3 con le seconde punte però comunque con i via letterali è interessante andando a vedere gli stili di gioco furambolo serpentino in corsa inserimento Abita il giocatore taglia le spalle giro controllo di suola palla netto mirato tira a scendere non c'è lungo tiro di prima astuzia sono fisica normale anch'issà incontrista 26 livelli di crescita anche il mio giocatore molto interessante molto solido difessivamente anche interessante palla al piede è un incontrista quindi non so quanto possa essere semplicemente il cc probabilmente è meglio metterlo mediano ok detto ce lo vedete anche dalla dalla mappa in alto può fare il mediano appunto il cc stile di gioco funambulo abita il giocatore filtro doppio passo doppio tocco sombrero rimbalzo interno passaggio di prima passaggio calibrato tornati intercettazione scivolata e forma fisica incorrame di lui gran bella cartina c'è poco a dire per quanto riguarda invece venete il tipico portiere che può essere forte quando para e scarso quando non para questi qua ovviamente lo sapete cosa cosa pensano quanto riguarda i portieri decide al 90% sempre la cpu quindi detto ciò alla traiettora è bassa e parare i vuoi portiere anche interessante ma ripeto fa quello che deve fare ecco qua kim sviluppo venti livelli di crescita gioco tre molto forte ragazzi molto forte anche molto rapido se vogliamo dirla tutta non ha molta accelerazione però in velocità 75 difessore centrale che altri 90 se permettete e tanta robetta è contatto fisico 82 parte così insomma difessore completo per quanto riguarda si gioca esperto pari lunghi avete al giocatore il passaggio calibrato marcatore intercettazione 1 dominio palle alte scivolata non ha colpo di testa questa potrebbe essere una pecca però comunque ha dominio palle alte si alziamo un pochino i parametri di colpo di testa probabilmente fa valere quella abilità non avendo colpo di testa un problema cioè come abilità intendo ragazzi non come parametro e forma fisica incorrame di lorenzo di lorenzo terzino offensivo 26 di crescita anche lui è un giocatore che come terzino non è velocissimo rispecchia fedelmente la realtà cioè che comunque un giocatore buono ma non velocissimo difensivamente è molto forte un terzino destro che ha ottimi parametri difensivi io gli metterei comunque l'istruzione difensiva per farvi volere sempre una soluzione di competenza e difendere bene ricordiamo che lui può fare oltre il terzino destro anche il difensore centrale e il cld io vi consiglio di metterlo come terzo difensore centrale o comunque terzino destro con istruzione previsco più l'ultimo l'ultima cosa perché comunque lui ha l'abilità attenzione offensivo quindi non è nel sviluppo rincontrista come difensore centrale non so quanto potrebbe essere al top vediamo l'abilità per quanto riguarda quest'ultimo e serpentinato in corsa a crossatore abilità il giocatore colpo di testa rimessa lunga intercettazione domini palle alte scivolata l'idea spirito combattivo può fare anche il difensore centrale tranquillamente ragazzi anche perché altro 83 e stile alaba stile alaba come vi dicevo come quando viene adizzo alaba che secondo me non può fare difensore centrale proprio fare il terzo di sinistra visto che mancino e basta oltre sino sinistro perché comunque così lui comunque tutta l'abilità per difensore centrale ed è molto interessante ultimo il buono vodka tra le linee 35 livelli di crescita 35 livelli di crescita questo fa 93 almeno di overall totale giocatore molto forte anche palla al piede difensivamente interessante purtroppo non è non è altissimo e ha pochissimo contatto fisico quindi risentirà un pochino dei contrasti con giocatori un pochino più fisici però tecnicamente interessante è un tra le linee quindi un mezzo è un mezzo diciamo modrici mettiamola così se il prentino esperto pari lunghi doppio tocco taglio le spalle a giro rimbalzo interno contro l'insuola passaggio di prima passaggio fettante passaggio colibato e passaggio scavalcare forma fisica normale anche questo vodka comunque ragazzi vi dico la verità proprio schifo non fa è molto interessante ripeto purtroppo non è un fenomeno fisicamente però ci sta insomma tecnicamente è divino quindi c'è poco da dire per quanto riguarda invece la valutazione generale di questo pack è davvero tanta roba davvero tanta roba anche perché sono tutti giocatori molto molto forti per quanto riguarda qualscheglia è un animale prima che è vincuato alle acquisizioni in campo così come lo sanno però così ben è sotto allo show time però tanta roba lo stesso anni sa bel giocatore benete il tipico portiere che se para bene sono para deciderci più lo sapete kim tanta roba di lorenzo ottimo giocatore può fare anche più posizioni e lo vodka è un mezzo modrici nel mezzo modrici detto ciò io prima a spacchettare e del pack napoli io andrei a vedere gli eventi che hanno messo e poi ci riportiamo qua ed eccoci come quanto riguarda gli eventi hanno messo un evento j league solito evento che mettono il md con i 60 90 mila gp fermabili raggiungendo gli obiettivi e poi hanno messo questo evento j league sempre queste con condizioni quindi per poter prendere le 50 monete football dovrete sicuramente scegliere una squadra e giocare con questa squadra cercando di raggiungere gli obiettivi ok quindi si può fare assolutamente se avete bisogno di capire come funziona date nei dettagli il sapporo il cascima eccetera 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 completate gli eventi che sono sempre queste tre sfide come dire gli obiettivi sono punti minimi 1 punti minimi 3 e punti minimi 5 per completare gli scenari alla terza sfida vi portate a casa le 50 monete del football non è difficile però ovviamente giocate con una squadra che è un eldring team e quindi dovete anche un po adattarvi secondo me non è facile ed eccoci qua ragazzi questo è il momento più importante ovviamente più giocatori riesco a pescare più riesco a farci anche dei test quindi le mie le mie aspettative quello che vorrei qualschieri ovviamente non si mene perché ci sono già di troppe versioni allora vediamo un po diciamo che quello che mi piacerebbe più è qualschieri ovviamente non so come metterlo in campo ma a modo lo trovo un altro giocatore è kim ovviamente quindi sono questi due quelli più quelli che vorrei più di tutti poi se mi arriva anche di lorenzo schifo non fa anche perché come terzino difensivo anche se improntato terzino offensivo un ruolo io lo trovo anghissà interessante come dirate con chissà com'è incontrista è un po da decifre come giocatore perché una passiva che come cc neanche come mediano mi fa stare tranquillo però lo utilizzerei lo utilizzerei anche perché ha delle belle abilità e ci sta ci sta e niente speriamo di non trovare rosano che non mi interessa o si immagino mi interessa ma anche meno lo vodka o già modi però non lo so qualcosa che troverò da fare insomma quindi ripeto obiettivi con la scheglia e kim dopo di quello che arriva se riesco a trovare tutte e due nelle prime due mi risparmi anche 100 monete vado avanti se no vediamo di facci tutti i giri fatemi sapere prima che io comincio a girare cosa vi aspettate voi da questo da questo pool quindi dite voi secondo me secondo me troverò con a scheglia kim non lo so vediamo eccoci qua proviamo il primo giro speriamo bene e quindi lo so che non è facile lo so che non è facile però ma che cavolo niente attenzione non volevo victor simen non lo volevo proprio sono abbonato a prendermi io e simenio porca miseria il primo giocatore che non userò mai perché di video simenio ho trovato una marea porca miseria gioco secondo giro dammi kim gioco dammi kim fai bravo dio simenio ricevuti anche fin troppi dai ce la puoi fare secondo me dopo passiamo da un po dall'altro guarda di lorenzo va bene va bene non è madonna raga però ultimamente sta diventando un macello va bene lo teniamo va bene io so già che mi dava vodka non lo sento che mi da robot che questi sono sono pool che a rischio proprio pesante pesantissimo veramente che poi non è che mi interessa più di tanto perché poi alla fine della fiera anche il contratto miato di di fraschieri è buono però insomma se mi da questo schifo non fa ci siamo portati a casa chi va bene massa quanto è brutto e niente niente quara schelia questo ce lo teniamo perché comunque forte molto interessante è tutto sommato a meno un obiettivo di due ciò san portare a casa allora ragazzi io vi faccio anche la build di chi di di kim così riuscite magari anche a trovare un un aiuto quello che lo trovate non sapesse come buildarlo io faccio sempre così faccio quadrato con l'assegnazione automatica vedete come lo fa la cpu viene fuori un 92 di overall e perché fa 90 di loro perché la cpu mette a disposizione i parametri più alti alza i parametri che comunque sono più in evidenza però è abbastanza sbagliato questa cosa perché comunque nonostante tutto si è vero alza i parametri difensivi ma non dà neanche importanza a quelli che potrebbero essere fondamentali per un ruolo specifico di un giocatore quindi come vedete colpo di testa arriva alle 79 non va bene e salto 80 che comunque ci potrebbe stare io cosa farei a questo punto siccome a forza in aria sette forza arti inferiori a quattro punti e fa 70 di velocità come vedete anche accelerazione 67 che è comunque troppo poco troppo poco per un giocatore che già comunque mediamente veloce quindi cosa farei farei così assolutamente e poi dove lui è andato a dare qualche colpetto ancora difensivamente purtroppo il giocatore è forte però devo dare qualche colpetto di testa se no sto tizio ecco contatto fisico mi lo fa 90 va bene così e insomma fa 81 però fa accelerazione 70 velocità 77 colpo di testa 80 che comunque buono salto 81 contatto fisico 90 e va bene questo gioco e qua fare 94 in game e sti cavoli comunque la fine della fiera sono quelli che mi servono per poter giocare un giocatore non è alto di verone vi dico la verità però comunque interessante sapete ragazzi ormai che mi sto sbizzarrendo con questa cosa sto provando un po stesso palla come vedete sto usando Sergio Ramos ho messo anche ten staggin in porta perché le sto provando veramente tutte però intanto kim viene qua in a darman forte ecco sotto questo punto di vista speriamo possa reagire bene e giocare bene soprattutto ho rimesso povarde perché purtroppo alexander Arnold se ne va sempre a cazzeggiare in aria e basta ragazzi detto ciò questa è la funzione che la kim non sa 95 dove roll me ne farà una ragione fa 94 sostituisco ben volentieri van dyke in questo momento che mi sta facendo abbastanza schifo detto ciò ragazzi io penso di aver tutto quanto lasciato un bel ecco per supportarmi un'iscrizione con la resta ancora fatto io vi auguro una buona giornata e come sempre buon game a tutti ciao ragazzi ciao ciao